Facendo un gioco, chi ha lei che stia o ghez? Modons? Chi ha il cine? Chi ha ce di malte? Qui sa il che io dopo per lavorare? A. Il marangon? B. Il mure d'or? C. Il minador? La chiace di malte, i modons e la chialcine, io dopo il mure d'or, dunque la lettera B. Provenco, fino con il cielo di sud. Qui sa il caldo per che schio ghez? A. Il sartore e la sartorie? B. Il poliziotto? C. Il cogo? Il fil, la gosiele e il tessuto, io dopo per insieme il sartore e la sartorie. A. Il poliziotto? Il poliziotto? Il poliziotto? Grazie a tutti.